E' il luogo, Tocci... In Italia, il luogo più preciso in Italia? ... 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 Torino! Torino! Pesta! Che fantasia! Torino! Torino dove? Torino che è il tuo sito di guerra, Torino? In che zona? In che luogo? Ma c'è un raggio! Dove? In via Plava! In via Plava! In via Plava! Che te pareti per la lama? Allora, loro per fare questa scena vi è stata dove vogliono, con questo spunto partito, a questa figlia della settimana si dice una consonante che c'è spesso quando si fa R? Giovanna detto R! Giovanna detto R! Ogni quarta volta i concorrenti, diciamo così, pronunceranno una parola con una lettera R, tutti insieme al pubblico dovrebbero usare BOOM! Campionato! Quindi se spalle rapidi ci sarà un cambio, il circuito su metterà un nuovo giocatore! Proviamo per esempio con la R, che fa la parola? Rana! 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 Siamo pronti a cominciare! 3, 2, 1, BOSS! Claudio! Dimmi Giovanna! Vi applausi! È bellissima! Un nuovo giocatore! Anche Co! No! Ria! Come abri tu? Sono in difficoltà! Non so come..... Tu, tu hai esordito Cosa? Un mio Tuo? Dai! Dai! Una mia voglia. Quando esattamente? Adesso vivere in via Terra. Non lo vedi, non lo vedi, ti amo! Via Plava, ti piace! Io e te! Lo stessa apposta perché... Dimmi, dimmi, dimmi il motivo, dimmi il motivo! Che mi ami? Hai scelto qui, dimmi il motivo, hai scelto questa via! Dimmi il motivo, cos'hai? Dimmi il motivo! Veniva da picco! Beh, a questo punto io non so più cos'ha? 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 Mi piace? Ti piace via Plava? Ma... Cos'è? 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 Ma... 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 Ho la raggiacompia... Sincero! Bello! Ma allora è più bello? È più blu? È più... Ma non blu... è più... Calmo! Dai calmo perché... Blu! un uomo e una donna, noi... Ti aspettavo, eh! Sono arrivato... Oggi... Che mano calda! Mi dai emozioni! Mamma mia, mi scuoto! Che gelida! Che gelida manina! Non lo so! Come andava avanti? Non conosci quella canzone? Eh... Dai! Ma ci conosciamo da 5 minuti! Se vuoi faccio... Non facci per niente! Uuuuh! Merde! Ma dove?